Leon, la pallavola è uno sport dove se c'è Leon in battuta si vince? No, secondo me se vince è quello che rimane più giù con la testa e concentrato in tutti gli elementi. Avete dato dimostrazione di essere già belli concentrati anche se siete da poco insieme quest'anno? Sì, davvero stiamo provando il nostro nuovo sistema, che è stare più insieme e fare qualcosa di più sul muro di difesa. Secondo me oggi non è stato male, dobbiamo fare meglio, ma va bene, passo a passo faremo. Senti, tu Eiden ce l'hai già in nazionale, com'è lavorare con lui? È abbastanza difficile, ci vuole pazienza e tempo, ma sono molto convinto che il suo sistema funziona. Dove può arrivare questa Perugia quest'anno? Vediamo, intanto le strade è abbastanza lunghe. Senti, hai dimostrato di essere un bravo professionista, questi giorni si parla già di mercato, ma tu hai pensato solo a giocare? Secondo me non devo pensare in quello, perché intanto chiedo questo anno con la squadra e secondo me forse rimango.